Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Non chiamatelo Occidente. Ormai la definizione più appropriata è quella di Uccidente, da che l'Occidente liberale atlantista sta conducendo spietatamente in maniera più che mai evidente dal 1989 una vera e propria guerra contro tutti gli stati e i popoli non allineati al verbo della globalizzazione neoliberale o turbo capitalistica che dir si voglia. L'Occidente muore solito, proclama guerre in nome della democrazia, dei diritti umani, della pace, ma si tratta in realtà di foglie di fico che nascondono la vera razio che è quella dell'imperialismo e della libido dominandi dell'Occidente, a tal punto che la cosiddetta globalizzazione meglio andrebbe intesa come una anglobalizzazione del mondo o se preferite come una americanizzazione tout court del pianeta. Ecco perché non dobbiamo più chiamarlo Occidente, dobbiamo invece appellarlo Uccidente nel senso tecnico della parola, dato che l'Occidente si sta macchiando di colpe inespiabili tramite guerre imperialistiche portate avanti grazie alla Nato, che non è uno strumento difensivo, essendo invece il braccio armato della civiltà dell'hamburger. Pensare e parlare altrimenti restano il primo gesto fondamentale per potersi liberare dai ceppi che ci tengono vincolati e la schiavitù, lo ricordo sempre, è anzitutto una schiavitù mentale.